4. Per coprire la testa dello strumento 7 luglio 1967, Scuola del Cerchio, Firenze 77, attraverso Roberto Setti, a cura di VB, Dali. Alcuni di voi questa sera pensano che noi vi rivolgiamo il saluto che segna la chiusura del ciclo di riunioni. E' virtualmente così. Ma vogliamo una volta tanto chiudere anche noi usando un simbolo. Per questo, senza che voi pensiate a qualche cosa di eccezionale, ma unicamente a una semplice conversazione, vi preghiamo di riunirvi un venerdì, alla stessa ora consueta, in un luogo un po' appartato dalla città. E questo non per fare manifestazioni straordinarie, che ormai già conoscete, ma unicamente per salutarvi in questa stasi consueta, in modo simbolico. Chiediamo quindi ospitalità al figlio Guido per questa riunione serale e simbolica, un venerdì che vi sarà comodo. Domanda, all'aperto, vero? Risposta, sì. Occorrerà un velo per coprire la testa dello strumento. Ebbene figli, vi abbiamo seguito nella conversazione di questa sera. Abbiamo udito le vostre domande, le risposte che vi siete dati, e vorremmo che sempre continuassero in questo clima di armonia e di serenità. La domanda che avete fatto circa l'individualità pare che abbia avuto una risposta. Seguite quello che dico. Non pensate alla riunione del venerdì, figli. Non faremo niente di eccezionale. Un semplice saluto simbolico. Ha avuto una risposta ed è certo soddisfacente. L'altra domanda circa le difficoltà che incontra l'individuo per camminare di pari passo o addirittura precedere il naturale moto che tende a farlo evolvere è una domanda che si ricollega a ciò che vi dicemmo ultimamente a proposito di queste riunioni. Sì, figli, basta guardare la natura e vedere quante sono le difficoltà che si sovrappongono al naturale ciclo di ogni essere vivente. Quante, se poi ci riportiamo ai tempi in cui era necessario costituire le razze razze nel senso dato dalle scienze naturali, non nel senso animico razze per veicoli fisici quando era necessario costituire questi veicoli fisici degli uomini primitivi parlo. Quante difficoltà incontravano e incontrano gli esseri viventi. Sopravvivono i più forti. Anche qua può sembrare strano. Anche qua un eccessivo rigore può sembrare volto a decimare le razze viventi. E invece, così come nella evoluzione, è essenziale, indispensabile che gli ostacoli siano fortissimi e tanto più forti per chi ha poca possibilità, per chi ancora, sulla strada della realizzazione interiore, è minimo. Così, cari, l'essere umano, l'individuo, incontra queste difficoltà e sono più quelle che sembrano allontanarlo dalla giusta via che quelle che invece vorrebbero, così apparentemente, farlo evolvere. Ma l'evoluzione nasce proprio da quello che, ai vostri occhi, sembra un ritardo, giacché se tutto fosse facile per lui, non vi sarebbe evoluzione, non vi sarebbe assimilazione. Solo un passivo acquisire, solo un semplice e superficiale apprendere, e non già un intimo, vero e reale sentire. Ed è più importante un piccolo passo realmente effettuato, piuttosto che un apparente grande vantaggio raggiunto, ma che non corrisponde a una reale trasformazione. Se ciascuno di voi non facesse domande, si limitasse a udire quello che noi diciamo, per dimenticarlo presto o tardi, oppure impararlo a memoria, senza che dal fermento della conversazione nascesse veramente la comprensione, senza parlare di vera e propria assimilazione, ben poco utili sarebbero le nostre parole. Sarebbe stato sufficiente scrivere qualche libro, come tanti forse ce ne sono, anche se non tutti parlano delle verità delle quali siete venuti a conoscenza ultimamente, e divulgarlo fra gli uomini. Essi lo avrebbero letto una volta, due volte, ricordato, e poi, non essendo il frutto di un dialogo, di un reciproco scambio, di una assimilazione alla quale si è giunti attraverso ad una collettiva comprensione, ad un lavoro di gruppo, ecco che ben presto tutto sarebbe stato dimenticato. La coscienza nasce nella libertà figli e la comprensione attraverso alla precedente macerazione, nella calma che segue alla tempesta e la liberazione. Grazie a tutti.